Presidente, stasera il Governo si riunisce, che cosa prevede lei per il Piemonte? Tendiamo di capire quelle che sono le indicazioni. So che il Governo ha chiesto al Comitato Tecnico Scientifico Nazionale una valutazione sul stato della salute di tutta l'Italia e di tutto il Paese. Qualsiasi cosa decidano ce lo dicano in fretta, in modo che la gente possa organizzare la propria vita e i propri destini e soprattutto se, in virtù del fatto che la salute viene prima e la vita viene prima, se però altre realtà commerciali, industriali, operative dovranno essere sospese, allora il Governo dimostri che qualcosa è cambiato rispetto a quelli di prima, cioè metta sul tavolo immediati ristori, li chiami aiuti, li chiami sostegni, ma metta soldi veri per aiutare in questo momento, che può essere un momento complicato, ma che ci deve vedere con la prospettiva del vaccino a risolvere definitivamente, perché fermarsi per poi ripartire e poi rifermarsi non può essere più una scelta da considerare. Il settore del turismo è sicuramente uno dei più bersagliati, noi abbiamo come Regione stanziato risorse importanti, già 130 milioni di euro nella prima fase, 20 milioni di euro soltanto per coprire il periodo natalizio, adesso devono uscire gli aiuti per questa chiusura primaverile, dobbiamo però guardare a ripartire, i piemontesi non sono persone che chiedono i sussidi, chiedono di poter lavorare, io chiedo al Governo di poter essere messo nelle condizioni di far lavorare i nostri operatori in sicurezza e sull'estate noi faremo ancora i voucher, cioè andremo a pagare come Regione la seconda notte nelle strutture alberghie del Piemonte, perché questa si è dimostrata essere una misura che ha funzionato. Per quanto riguarda i vaccini a che punto è in Piemonte? Il Piemonte è in vetta alla classifica, per cui è un Piemonte che performa bene, è un Piemonte che ha inoculato 9 dosi su 10 ricevute, cioè il 90% quasi delle dosi che abbiamo ricevuto, siamo tra le prime regioni d'Italia, con Toscana, con Campania, siamo primi insieme al Friuli per il rapporto tra persone residenti e persone vaccinate. Siamo un Piemonte che va veloce sul vaccino, ma in un'Italia che va piano. A proposito di velocità, il Consiglio di Arona Federico Monti ha parlato anche delle piste ciclabili. Con Federico abbiamo parlato di tante iniziative, ma in particolare di questa ciclopedonalizzazione del Lago Maggiore, che ci deve vedere i protagonisti, perché questa è un'opera che serve e noi dobbiamo pensare in grande. Non ha senso prendere i fondi europei e parcellizzarli, polverizzarli in tanti piccoli aiuti che non cambiano i destini di nessuno, ma vanno concentrati in una grande opera. Questa può essere la grande opera.